Chiedere, perché noi cantavamo sempre da ragazzi, diciamo ci siamo avvicinati troppo tardi ad alcune cose Da ragazzi cantavamo sempre Uè mamma, però non ci siamo mai resi conto del vero senso di quella canzone In cui cantavi, so fratelli a noi, ci vengono liberati E lo cantavi in un momento in cui pochi e magari In un momento indubbiamente che nessuno se la... Infatti quando mi sono conosciuto con Pino Aprile ci siamo incontrati Lui mi ha riconosciuto il fatto di essere stato il primo a parlare di questa invasione, di queste tematiche Uno dei primi quanto meno E forse per quello magari non hai avuto... Era il 1981, però non si poteva dire, non si poteva parlare Per cui io cantavo la storia di un'invasione presunta, imminente, avvenuta Perché tra l'altro c'è sempre questo sport Invadere il vicino, ahimè, per liberarlo Esatto L'hanno fatto